Questa è la terza ripresa che noi facciamo oggi, 13 settembre 2013, è una delle date catarchiche perché venerdì 13 2013, è veramente una data in cui qualcosa succederà o è successo? Tra l'11 e il 13 settembre sono successe molte cose, tra l'altro anche l'attacco e la morte del presidente del Cile al Jenga, assolutamente sì, 1973, quella è stata una nazione vera, non proditoria, mistificatrice, falsa, proditorie sono state pure le altre, però questa è stata sicuramente verace. E lui si è difeso fino alla fine, tanto che poi si è suicidato, pur di non essere ucciso e magari maltrattato, torturato e quant'altro dagli americani. Sì, ma ha anche scritto delle parole straordinarie per spiegare che cosa stava accadendo. Esattamente, esattamente. E allora rientriamo nello spirito di quelle persone e rientriamo nell'ambito del discorso che noi abbiamo fatto soprattutto oggi. Parliamo sempre delle medicine e delle cattive medicine. Parliamo sempre a difesa di tutti coloro che tentano in tutti i modi di imporre e di proporre la medicina naturale. Dice, ma secondo te Aldo Vieri, il veterinario di Agropoli, Bonifacio, l'amico Tullio Simoncini, è di bella. Sono da ascriversi nell'ambito della rivolta della medicina naturale contro la medicina dell'industria farmaceutica? Sì, perché tutti questi propongono una terapia naturale. Assolutamente. E siccome pochi si ricordano ancora del dottor Aldo Vieri, ricordo che il dottor Aldo Vieri prescriveva a gocce un estratto di colchicina, che è una medicina estratta dalla natura. Infatti Aldo Vieri derivava da una cultura naturale della sua nativa toscana. Ma c'è di più. E lo dico perché io, quando collaboravo alla prestigiore rivista, che aveva una tiratura di 55 mila copie decadali, cioè ogni dieci giorni, la coscienza del medico, ebbi la possibilità di appurare che... Rifacendosi alla deontologia di cui parlavamo stamattina, il titolo Nomen Omen. Esattamente. E quindi è nel titolo che c'è tutto il contenuto. Esattamente. Ebbene, la possibilità di appurare... Non a caso il titolo chimico è il contenuto. Esattamente. Non è uno scherzo. Tu non mi hai detto una cosa per caso. No, no. Perché tutta la cultura chimica deriva dalla cultura alchemica. Certo. E gli alchimisti sapevano quello che dicevano e sapevano quello che scrivevano. Assolutamente. Lo dicevano sotto forme diverse. Eredi della cultura tolemaica. Esattamente. Perché? Perché erano perseguitati. Persiano tolemaica, meglio. Perché erano perseguitati. E quindi dovevano per forza dare delle parole che dovevano passare al vaglio della interpretazione. Ma loro erano nella verità. E per dire questo dico una cosa importantissima. Uno dei principi fondamentali. No, vuoi fare intervento? Sì. Non a caso le persecuzioni contro l'Accademia d'Alessandria, Ipazia, Tolomeo e tutti i suoi discendenti... Vengono da loro signori. Vengono da loro signori. Perché faceva scomodo, molto scomodo, una realtà scientifica inoppugnabile. E bisognava renderla assolutamente inoffensiva. Farla dimenticare e farla... Per poter poi propinare le porcate che ci hanno propinato prima a livello religioso, teosofico, filosofico, teologico e quant'altro. E poi con l'industria chimica a partire dagli albori degli inizi. All'albori dell'industria chimica. Parlo dell'Ottocento, se non prima. Allora io vorrei che a questo punto la nostra amica, carissima amica regina, dica quello che mi ha detto questa mattina in relazione delle cosiddette streghe. Ho detto questo, che le streghe erano le donne più abili, emancipate di una comunità. Non è vero che la caccia alle streghe è stata fatta solo nel 1500. Ci sono prove che già dall'Ottocento fino al 1800 a Parigi, dove le ultime streghe sono state bruciate al fine del 1800 a Parigi, ed erano... L'oscurantismo religioso cristiano. Vedeva nella donna l'antagonista del male, la catalizzatrice del male. Ma erano semplicemente... Perché il male era nel sesso. Le conoscitrici delle erbe, erano le vere curandere, erano le donne... Mia nonna era una strega. Ecco, erano le donne che facevano partorire, erano le levatrici... Mi ricordo il film, quel meraviglioso film... Ho sposato una strega. Con quella grandissima attrice che era Veronica Lake. Erano le levatrici ed erano le curandere attraverso le streghe. Quindi, le donne più dotate della comunità. E io stavo scherzando, tra virgolette, con Giorgio stamattina e dicendo... Non a caso c'è una dea pagana che si chiama Aretha, che era a tutto dire. Esattamente. Poiché... Solo che i pagani riconoscevano il valore di quelle comportazioni. Che per mille anni, per mille anni, le migliori fattrici dell'Europa, le migliori fattrici sono state sterminate. Posso anche spiegarmi come mai la popolazione si sia così degradata in questo nostro continente, in questi decenni. Perché è così? Cioè, le donne più evolute, più colte, più preparate, più addentro e collegate alla natura, sono state sterminate per questo stesso fatto. Ma crudelmente, oltredutto. Perché le potevano anche uccidere. No, le hanno bruciate vive. Doveva essere l'esempio. E poi c'era la denuncia anonima, per cui bastava che un vicino di casa vedesse una donna che raccoglieva le erbe, era sufficiente per denunciarla ed era sufficiente perché lei venisse prelevata dalla sua casa. Questo dovuto ai concili tridentini di quei figli di puttana dei borghese in particolare. Assolutamente. La Chiesa ha condotto diretto e organizzato questo sterminio. Chiaro, gli dava fastidio, gli faceva ombra, gli toglieva potere perché il controllo del potere era proprio completo a 360 gradi e c'era la conoscenza scientifica, la conoscenza religiosa, la conoscenza trascendentale e laica che era tutta in mano alla Chiesa, nelle varie branche della Chiesa, ma tutta in mano alla Chiesa. Oltre al fatto che iniziava a essere in auge la cosiddetta medicina e i medici, non a caso sempre maschi all'inizio della medicina, per cui le donne che curavano il popolo dovevano essere assolutamente eliminate. Per non fare ombra alle nuove cure, questo è ciò che è accaduto e di questo ancora stiamo patendo i postumi. Anzi, anzi direi esasperati dal potere e dal sovrapotere dell'industria chimica. Sì, sì, sì. Allora, veniamo alla sostanza di questo discorso. Qui c'è perché le persone restano stupite di quello che noi diciamo. Dice, ma è possibile? Allora, per favore andatevi a leggere delle riviste che si trovano regolarmente nelle edicole. e questo è internazionale, una rivista che pubblica articoli presi da tutti i giornali del mondo. Qui c'è cattive medicine. Ben Goldrake, The Guardian, Regno Unito. Quando prescrivono un farmaco, spesso i medici non sanno esattamente che effetto avrà sui pazienti. Perché la legge consente alle case farmaceutiche di pubblicare soli i risultati positivi dei test condotti sui medicinali. Questo è stato il premesso. Quando questi sono riusciti a trovare l'accordo per cui di 50 lavori che sono stati fatti, le aziende possono pubblicare soltanto i risultati più favorevoli, è evidente che tutto il resto viene di conseguenza. L'inchiesta di un medico britannico. Leggiamo perché, ripeto, questi nostri amici potrebbero pensare che noi parliamo tanto per parlare, o per partito preso. Noi invece siamo qui per denunciare una situazione. E questa situazione la dobbiamo denunciare per far capire in quale inganno sostanziale si trova l'umanità intera. Ma soprattutto le modalità con cui è stato messo in atto questo processo. Ed è continuamente messo in atto questo processo che ha come fine lo sterminio dell'identità culturale, personale, sociale, della nostra civiltà in senso lato. Esattamente. E allora molti ci potranno accusare di essere dei complottisti. Benissimo. Allora, incominciamo a dire... Sai cosa penso io? Che complottista è chi organizza i complotti, non chi li denuncia, non chi li smaschera. Quello è il vero complottista. Nella battaglia della guerra delle parole è chiaro che i loro signori hanno inventato una parola che utilizzano contro quelli che si sforzano di denunciare i complotti. Esatto. Allora, partiamo da queste considerazioni. La reboxetina è un farmaco che ho prescritto anch'io, dice questo medico. Con uno dei miei pazienti le altre medicine non avevano funzionato. Perciò volevamo provare qualcosa di nuovo. Prima di scrivere la ricetta avevo letto i dati dei test clinici e avevo visto che erano ben strutturati e che i risultati erano in prevalenza positivi. E ben venga che questo si è letto i test clinici, che rappresenta comunque uno su mille, fumo su diecimila. Tanto è vero che ha dovuto poi scrivere questo articolo. Tutte queste correlazioni sono importanti. Perché ha scritto questo articolo? Perché era uno che leggeva la letteratura. Certo. E se no, se uno non legge la letteratura, che ne sa? E soprattutto che ha verificato che qualcosa non quadrava. Sulla letteratura l'ha verificato. Ma se non è il punto di riferimento scientifico, come fai a dire che ti hanno preso per il culo? La reboxetina funzionava meglio di un placebo ed era alla pari con gli altri antidepressivi, con i quali era stata messa a confronto. L'MHRA... Sai qual è il miglior antidepressivo? Sì, sì. L'impegno, il lavoro. Ma... Il lavoro... Ti metterei anche un'altra cosa. Ma lo siamo... Anche il sesso. Anche il sesso. È il miglior antidepressivo che c'è. L'MHRA, l'agenzia che regolamenta la diffusione dei farmaci e dei prodotti sanitari del Regno Unito, e lì c'è qualcosa che funziona molto di più che non in Italia, l'ha approvata. In tutto il mondo se ne prescrivono milioni di dosi ogni anno. Doveva essere un farmor efficace e sicuro. Ne ho parlato brevemente con il paziente e abbiamo concordato che era la cura giusta da provare. Quindi ho firmato la ricetta. Ma ci eravamo sbagliati. Nell'ottobre del 2010, un'equipe di ricercatori è riuscita finalmente a mettere insieme tutti i dati disponibili sulla reboxetina, presa sia dai test clinici pubblicati sia da quelli mai apparsi sulle riviste specializzate. A questo punto dobbiamo fare una precisazione. Esiste la medicina basata sulle prove di efficacia, che fortunatamente è nata per reagire contro queste sopraffazioni dell'industria farmaceutica, ed è composta questa struttura da equip di volontari, i quali prendono in esame non tanto di strano, ma tutta la letteratura pubblicata o che si può trovare. Non solo quella che è stata pubblicata sulle riviste ufficiali, ma anche quell'altra. E questa è una cosa molto importante, ricordatevi, cari amici, solo per adesso, di questa frase, medicina basata sulle prove di efficacia. Per cui, qualora voi aveste una malattia un po' grave, andate al vostro medico e il vostro medico vi fa una prescrizione, gli dovete dire, scusi eh, ma lei l'ha letto sul testo pubblicato ufficialmente della medicina basata sulle prove di efficacia, il medico gli dirà di no, perché non sa nemmeno dov'è questo testo, perché questo testo è stato pubblicato ed è stato tradotto anche in italiano. Il Ministero della Sanità all'epoca ha detto che ne aveva pubblicato 350.000 copie per mandarla a tutti i medici, come il sottoscritto è uno di quelli che ha ricevuto la copia, perché il Ministero sa che io mi interesso di queste cose. Ma di che anno si sta parlando? Parlo di una decina di anni fa. Ok. E' andato poi in parecchi congressi a chiedere se questi medici avessero ricevuto questo testo. Nessuno l'aveva ricevuto. Per vie interne sono riuscito poi a sapere che questo testo non è stato pubblicato in 350.000 copie. 350.000? No, 5.000. 5.000? 5.000. Al posto di 350.000? 350.000, come aveva detto il Ministro? Ho capito. Nelle tasche del Ministro e dei suoi amici, che non l'hanno pubblicato per niente. Mamma mia. Va bene? Ecco. Proseguiamo. E il Ministro, se vuole, mi può citare a giudizio. Vorrei che il Ministro mi citasse a giudizio, perché mi dicesse, perché a quel punto gli direi, gli chiederei dove ha messo le altre 345.000 copie che dice di aver fatto stampare e che al prezzo di almeno 10 euro, perché un libro così, io l'ho già fatto vedere altre volte, potrei farlo vedere nelle prossime trasmissioni che noi facciamo, costa almeno 10 euro. Più la spedizione, questi sono tutti i soldi che si è messi in tasca. Un milione e mezzo di euro. L'allora Ministro. L'allora Ministro e la congrega degli amici soldi. Questo ministro era un esponente di una grande e importante società scientifica medica italiana. Noi dobbiamo fare i nomi. Queste sono le società mediche italiane. Ha fatto una marea di porcare. Noi dobbiamo fare. È molto noto. Ma De Lorenzo. No, no, De Lorenzo era prima. È un sciacquabottiglia. Non era a questi livelli. Il confronto è un sciacquabottiglia. Sì. De Lorenzo è veramente un sciacquabottiglia. Un sciacquabottiglia. Veramente, hai detto giustamente. Sciacquabottiglia sporche di urina. Sì, certo. Non gli farebbero pulire altro. Forse che forse, capito, che si beve anche quello che c'è dentro. Ma siamo stati. Doveva essere un farmaco efficace e sicuro. Li ho parlato brevemente con il paziente. Ma ci eravamo sbagliati nell'ottobre del 2010. Un'equipe di ricercatori. Ripeto. I ricercatori di questa associazione che si chiama Cochrane Association, con nome di un grande medico che si chiamava Cochrane, che è quello che ha dato vita a un medico australiano, che ha dato vita a questo banale sistema di verifica. Perché come fai a parlare di farmaci se non ci metti anche la verifica dei risultati? Certo. Tra parentesi, il buon Cochrane, che è stato anche medico militare, si è riferito a una prassi anglo-americana, che era quella di andare a verificare i risultati delle bombe lanciate in Italia, in Germania, in Francia e qualc'altro. Allora lui giustamente ha detto, ma voi andate a vedere quali sono i risultati dei bombardamenti e non andate a vedere i risultati degli effetti terapeutici e delle medicine? Allora, ripeto, ai nostri amici, io ho tutta la letteratura relativa e ho anche i libri scritti e tradotti in italiano del buon Cochrane. Va bene, allora a voi vi interessa di andare a valutare, sono andate a valutare uno per uno tutte le buche delle bombe che questi hanno lanciato? Ma non mi è fregata. A Dresda, a Dresda no, tanto vuol dire che erano... A Dresda, però non era assolutamente possibile, è andato a fuoco tutto, quindi non era assolutamente possibile. Hanno creato una palla di calore di oltre 5.000 gradi che ha distrutto tutto, ha fuso anche i mattoni addirittura, altro che bombe atomiche. Allora attenzione a quello che scrive questo medice, presi sia dai test clinici pubblicati sia da quelli mai apparsi sulle riviste specializzate. E il quadro che ne è uscito è stato terrificante, lo prego, lo ripeto. Erano stati condotti 7 test in cui il farmaco veniva confrontato con un placebo. Solo uno effettuato su 254 pazienti aveva dato risultati nettamente positivi ed era stato pubblicato su una rivista scientifica. Ma gli altri 6 test, 6 su 7, condotti su un numero di pazienti 10 volte superiore, avevano dimostrato che la reboxetina non era più efficace di una qualsiasi pillola di zucchero. Nessuno di quei test era stato pubblicato e non avevo idea che esistessero. A chi lo dobbiamo dire? Ai prescrittori di chemioterapia. Allora riprendiamo, beh, continueremo su questa strada, ma leggiamo una cosa che è stata scritta su questa rivista. L'abbiamo già citato, ma lo ripetiamo. Cosa c'è scritto in questo? In un articolo di questa rivista. Che però in questo momento ho difficoltà a reperire, però l'avevamo già letto. Allora. Questa è un'altra cosa. Semmai, appunto, lo dirò a memoria, però ricordatevi, cari amici, che io sono abituato a... Ecco. Allora. Mandinazione della sanità. Questa è la tematica a cui loro, ovviamente, ci tengono a parole. Ma c'è un articolo, che è estremamente interessante, in cui si diceva, in cui si diceva, proprio in maniera molto chiara, che la letteratura, cosiddetta letteratura medica, era semplicemente falsa. e che io non riesco a trovare, che citava, appunto, niente o po' di meno che il responsabile di un'azienda, di una ditta che pubblica un'importantissima rivista scientifica, il quale ha dato le dimissioni semplicemente perché non poteva più pubblicare quello che voleva perché subiva le influenze dell'industria farmaceutica che pretendevano che lui pubblicasse a pagamento e pagando un sacco di soldi, queste riviste ovviamente costano, che lui pubblicasse solo i lavori e le pubblicazioni che risultavano positive. Ora, voglio dire ai nostri amici che il dato statistico è sempre un dato statistico. La ricerca, e questo è il punto essenziale, è costituita da una serie di dati statistici in cui alcuni di questi sono anche positivi, escludendo la partecipazione interessata dei ricercatori che molto spesso si è dimostrato essere chiaramente interessati al successo di quella industria, perché azionisti di quell'industria, a parte questo può capitare che facendo molte ricerche una sia anche positiva, come dimostra questo medico, il quale giustamente dice di 7 pubblicazioni fatte su quella sostanza, di 7, una era positiva. Vedi caso, la letteratura ha preso in considerazione solo quella. E io me dico giustamente che leggo la letteratura, immaginiamoci quelli che non la leggono, che subiscono soltanto le pressioni pubblicitarie dell'industria, che cazzo ne capiscono di queste cose. Io allora qui a questo punto vorrei, Medicina naturale, una bellissima rivista, questo è il primo numero di questa rivista dove leggo delle cose veramente interessanti che riguardano questi concetti. Mi pareva di averlo sottolineato qua, ma vedo che è sempre una difficoltà. Questa è un'intervista a un noto medico milanese che si chiama Dottor Speciani. Questo Dottor Speciani è figlio di un noto professore, che era il professor Carlo Alberto Speciani, che operava qualche decennio fa. Dottor Speciani, viviamo in una mare di inquinamento, non solo in senso reale, ma anche metaforico. Dalla polluzione dell'aria all'AIDS, alla guerra. C'è una via di salvezza? Alla comunicazione, quella più massiva. E' naturale. L'inquinamento. Sto pensando di realizzare risposta, anche perché mi è stato chiesto, una piccola summa delle istruzioni anti-inquinamento indispensabili a cui vorrei dare il titolo. Dieci istruzioni perché muoiono solo gli altri. E questo è indicativo. Potrà sembrare cinico, ma è così. Lei mi chiede se c'è una via di salvezza? Sì, ma nella consapevolezza individuale. A livello sociale, invece, non credo che si possa arrivare a dei cambiamenti sostanziali. Aveva ragione. Questo è un numero del 1992. Sono passati dieci anni. No, ventidue anni. Ventidue anni. Bravo, ventidue anni. L'aria continuerà a essere irrespirabile e per altri dieci anni si continuerà a parlare di AIDS perché ciò permette di avere fondi per la ricerca. È certo. Non mi faccio illusioni. Gilles Verne ha scritto in ventimila leghe sottimari. Nulla può cambiare finché produce profitto. Esattamente. Gilles Mer. Esattamente. Esiste una tale somma di interessi economici che facciamo in tempo a morire prima. Il mondo ha assistito a disastri in mani. Basti pensare ai disastri delle guerre mondiali. Cosa è stato per l'Europa nel 1945 eppure la vita ha ripresa a scorrere. La speranza sta nella capacità dell'uomo di muoversi senza precludersi nessuna via. In questo contesto domanda qual è la funzione che lei attribuisce alla medicina naturale e quello su cui puntiamo noi. Esiste anche un formidabile inquinamento da farmaci. Anche se ormai è praticamente misconosciuto. Guarda che nel 1992. Ascolta oggi a distanza di 21 anni io vedo e te l'ho detto giorni fa vedo gli anziani che escono dalle farmacie con due borse di plastica di medicine come se uscissero dal supermercato. Perché un farmaco ha portato a un altro, un altro ha portato a un altro, quello a mettere a posto lo stomaco ha portato al fegato, quello ha portato ai reni e quindi praticamente il consumatore sta al top. Il consumatore sta al top del consumo. I dati statistici ci dicono che negli Stati Uniti la media delle prescrizioni di farmaci in un anziano sono 18 prodotti diversi al giorno. Assolutamente. E ancora, il che significa che questi non sanno assolutamente che la capacità di smaltimento di un anziano non è quella di un giovane. Quindi basterebbe questo per dire la criminalità di queste persone. Criminalità. La funzione della medicina naturale, nella misura in cui questa non è prescrizione farmacologica, perché esistono poi anche i divoratori di farmaci naturali, bravo, bravo, è vero, è importantissima. È una carezza che si fa alle persone al posto delle cannonate, faccio per dire a cui un certo modo di fare medicina le ha abituate, quantomeno si possono ridurre gli interventi pesanti ai casi di effettiva necessità. Mi sembra che questo abbia detto le cose giuste e noi riprendiamo quel discorso che eravamo interessati a portare avanti prima. Qui parla anche di tabelle statistiche che riguardano il problema del colera. Allora, questo lo dico perché è veramente interessante. Giorgio, siamo a 30 minuti. Sì, quanto resta? Quanto vuoi? No, resta, resta. Allora, nel 1831 ci fu un famosissimo colera a Napoli. In questo colera i risultati della omeopatia furono esattamente dieci volte quelli della medicina convenzionale. Allora, uno mi potrebbe obiettare, sì, ma la medicina convenzionale era quella dell'epoca, certamente, perché questa è diversa. Il problema è quello della medicina convenzionale. Allora, siccome l'omeopatia è rimasta sempre la stessa, la terapia omeopatica è la stessa, mentre è cambiata la medicina convenzionale, mi devi spiegare per quale ragione prendi per buono la medicina convenzionale. Certo. Perché era quella la medicina convenzionale e la omeopatica valeva di più, ma i risultati, devo dire, sono veramente sorprendenti. Noi abbiamo avuto, poi qui c'è stata tutta un'analisi, lo faccio vedere perché se no le persone non ci credono, colera o semplice disenteria? Perché ovviamente hanno incominciato a dire che quelli che sono guariti dall'omeopatia avevano la disenteria, gli altri avevano i coleri, allora mi devi spiegare per quale ragione quelli sono morti e quelli che pigliavano l'omeopatia sono sopravvissuti, no? Certo. Ma questo non lo dicono, no? È chiaro, no? Allora, andiamo avanti su questo discorso qui che è ancora più imputato. Allora, ma gli altri sei test condotti sul numero di pazienti dieci volte superiore avevano dimostrato che la reboxetina non era più efficace di una qualsiasi pilala di zucchero. Ma c'è di peggio, dai test che confrontavano la reboxetina con altri farmaci è emerso esattamente lo stesso quadro, tre piccoli studi su un totale di 5. 507 pazienti dimostravano che i farmaci davano tutti gli stessi risultati ed erano stati tutti pubblicati, ma i dati su uno studio con 1.657 partecipanti erano stati ignorati. Qualsiasi riferimento ai risultati della ricerca della terapia di Bella, a cui noi abbiamo fatto il riferimento tempo fa, mi sembra completamente pleonastico. Come fai a dire che i risultati, ancorché fatti sui morienti, possono essere fasulli quando tu mi porti una letteratura in cui si dimostra che i farmaci voluti dall'industria farmaceutica sono tutti fasulli. Andiamo avanti. I pazienti che prendevano la reboxetina stavano peggio di quelli che usavano altre medicine. Non solo non serviva niente, ma stavano pure peggio. Come se non bastasse c'erano anche gli effetti collaterali. Dagli studi apparsi sulle riviste specializzate sembrava che il farmaco funzionasse, ma quando abbiamo visto quelli non pubblicati abbiamo scoperto che c'erano più probabilità che i pazienti ai quali era somministrata la reboxetina avessero effetti collaterali, smettessero di prendere e abbandonassero la sperimentazione proprio a causa di quegli effetti. Allora questa è un'altra considerazione importantissima. Tu fai una sperimentazione. La maggior parte dei pazienti hanno degli effetti secondari, per cui smettono di prendere il farmaco e tu delinquente non lo segni neppure. Allora qui c'è, ma perché noi dobbiamo riuscire a far capire certe cose. Qui c'è un principio fondamentale che è stato riconosciuto, che è quello della ricerca sugli effetti secotari. Questa è la fase quarta della ricerca, che tutti i medici e tutti i farmacisti... E con questo chiudiamo, perché è molto significativo questo. Con questo chiudiamo. Questi sono tutti le cose che questa gente deve segnare. Pensa. È obbligatoria norma di legge, chi non lo fa dovrebbe andare in galera, qui non ci va in galera nessuno e non fa niente nessuno. Pensa. Ogni medico che riscontra un effetto secondario, ogni farmacista a cui comunica un effetto secondario, deve riempire questo modulo. Va bene? Nessuno l'ha mai fatto, in Italia non lo fa nessuno. Chiaro? Ecco, allora, alla faccia di quelli che mi vogliono parlare bene della chemioterapia. Ma andiamo avanti. Vuoi completare perché ci manca poco tempo? No, no, perché mi piacerebbe completare questa argomentazione che rimanesse limpida. Dobbiamo far capire come funziona il sistema. Come se non bastasse c'erano anche gli effetti collaterali. Dagli studi apparsi sulle riviste specializzate sembrava che il farmaco funzionasse. Ma quando abbiamo visto quelli non pubblicati abbiamo scoperto che c'erano più probabilità che i pazienti ai quali era somministrata la reboxetina avessero effetti collaterali, smettessero di prenderla, abbandonassero la sperimentazione, proprio a causa di quegli effetti. Ho ripetuto la lettura perché bene i nostri amici lo sappiano. Avevo fatto tutto quello che un medico deve fare, giusto. Un medico serio che ovviamente si trova di fronte alle possibilità che gli fornisce l'industria e deve scegliere sulla base della scienza e della coscienza. Questo è il principio fondamentale. Questo l'ha fatto e ha riscontrato subito quello. Gli altri, quelli che non lo riscontrano, non agiscono secondo scienza e coscienza. Assolutamente, sì. Avevo letto gli articoli, li avevo valutati criticamente, ne avevo discusso con il paziente e avevamo deciso insieme sulla base delle prove a nostra disposizione. Secondo il materiale pubblicato la reboxetina era un farmaco efficace e sicuro. In realtà non era meglio di un placebo e faceva più male che bene. In pratica avevo danneggiato il mio paziente semplicemente perché i dati negativi sul farmaco non erano mai stati pubblicati. In questo caso, e uno mi parla di congiura, più congiura di così, dove la vuoi trovare? In quel caso nessuno aveva infranto la legge. La reboxetina è ancora sul mercato e il sistema che ha permesso che questo accadesse è rimasto immutato. Per tutti i farmaci in tutti i paesi del mondo. Perfetto.